Ursula Bennardo parla della gravidanza, sono in ansia! Ecco cosè successo Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno vivendo uno dei periodi più belli e intensi della loro vita La bella pugliese è in dolce attesa e a distanza di quasi 15 anni dalla prima gravidanza presto diventerà nuovamente madre Una svolta quasi inaspettata per la storia tra i due che hanno vissuto un percorso molto travagliato ma fortunatamente lamore ha vinto su tutto Molto attivi sui social dove spesso postano immagini della loro quotidianità e sono seguiti da migliaia di persone Ursula Bennardo in un intervista ha raccontato le emozioni di aspettare un bambina, le paure e le preoccupazioni di una gravidanza e il sostegno che sta avendo dal compagno Sossio e da tutta la sua famiglia La storia damore tra Ursula e Sossio Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno avuto un percorso a dir poco accidentato Sono usciti insieme dallo studio di uomini e donne per biversi la loro storia lontano dalle telecamere e dalle insidie della popolarità A distanza di qualche mese, per mettere alla prova il loro sentimento, hanno partecipato Temptation Island Proprio qui la bella pugliese ha dovuto assistere ad atteggiamenti e comportamenti ritenuti dalla stessa poco rispettosi da parte del calciatore partenopeo Quest'ultimo aveva dato molte attenzioni ad una tentatrice, tanto da far perdere le staffe alla fidanzata che aveva chiuso definitivamente la loro storia Dopo qualche settimana Ursula Bennardo ha deciso di tornare nello studio del dating show di Canale 5 per mettersi alla spalle la triste esperienza di Temptation e cercare di trovare l'uomo che le facesse battere il cuore Sossio, però, si è ripresentato per cercare di riconquistarla Nonostante lei avesse cercato di tenerlo lontano, passo dopo passo il calciatore è riuscito a fare breccia nel cuore della bella pugliese I due ora sembrano molto felici, visto che presto diventeranno marito e moglie e avranno una figlia insieme Ursula Bennardo in ansia per la gravidanza Le bella Ursula Bennardo ha rilasciato un'intervista al sito Il Vicolo delle News, nella quale ha raccontato le sue sensazioni e le sue emozioni in attesa del parto Un'esperienza, quella della gravidanza, che l'ex dama del trono over di uomini e donne aveva vissuto 15 anni fa La Bennardo si dichiara comprensibilmente felice di diventare nuovamente madre, anzi spiega che era un desiderio che portava dentro da molto tempo e che stava cercando la persona giusta Evidentemente dopo i tanti alti e bassi che ha avuto nella sua relazione con Sossio Aruta e due hanno trovato il giusto equilibrio e soprattutto la felicità Ovviamente questo non significa che i timori e le paure che accompagnano tutte le donne che vivono la meravigliosa esperienza della gravidanza Sto affrontando questa gravidanza da adulta con un po' più di ansia, nonostante di carattere non sia affatto ansioso Mancano sempre meno settimane all'arrivo di Bianca, dovrebbe essere questo il nome che Ursula Bennardo e Sossio Aruta daranno alla figlia